Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, martedì 30 aprile. È corsa contro il tempo ed è tempo di decisioni in Italia per la presentazione delle liste in vista dell'appuntamento con le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, ma soprattutto è tempo di decisioni in Medio Oriente dove si registra la presa di posizione di Israele che ha parlato apertamente di sospendere le operazioni di guerra, però questa decisione deve essere accompagnata dal rilascio di tutti gli ostaggi in mano a Damas e si attende alla risposta nelle prossime ore. E poi spazio anche all'incontro tra governo e sindacati sul tema del lavoro e dei benefici per famiglie e imprese. E allora andiamo subito sul Corriere della Sera che dedica una falsa apertura alla corsa per la chiusura delle liste europee. L'idea sulla scheda Vannacci detto il generale. E poi leggiamo il richiamo. Rush finale per presentare le liste alle elezioni europee di giugno. Tra i leader in campo Meloni, Schlein, Tajani e Calenda, mentre Renzi non ha ancora sciolto la riserva. Sulla scheda della Lega ci sarà anche Roberto Vannacci detto il generale. E ancora c'è il racconto con Meloni, i ministri e il fuoco amico. Ma l'apertura del giornale è dedicata alla vicenda del Medio Oriente. Gaza spinta per la tregua. spinta per la tregua. Gli Stati Uniti ora Hamas accetti l'intesa. Il cessate il fuoco in cambio di 33 ostaggi. Blinken a Riad il ruolo dei sauditi. Blinken naturalmente il segretario di Stato americano. Nuovi attacchi a Rafa, decine di vittime, ci sono dei bambini. Davide Frattini scrive In Medio Oriente è il tempo della trattativa. L'accordo prevede una lunga pausa nei combattimenti, fino a 40 giorni, in cambio del rilascio di 33 sequestrati. I capi di Hamas, comenta Anthony Blinken, che domani sarà in Israele, hanno ricevuto una proposta estremamente generosa. Devono ora decidere e decidere anche in fretta. C'è anche l'altro fronte, quello tra Russia e Ucraina. In questo caso però riguarda esclusivamente la Russia il caso Ariston. L'ite tra Italia e Mosca ha convocato l'ambasciatore alle imprese nazionalizzate. Federico Fubini scrive Caso Ariston, le diplomazie sono già al lavoro, la farnesina ha inoltre chiesto a Mosca la revoca del provvedimento di trasferimento temporaneo della gestione. Ma la Russia non ha recta risposta alle vostre azioni ostili. E l'Italia ha chiesto anche l'intervento delle istituzioni europee. Sul fronte lavoro, gli sgravi per chi assume donne e giovani. La Medoni è il bonus di 100 euro. Enrico Marro scrive, sgravi fino a 100 euro per chi assume donne e giovani. Per questi ultimi è previsto che i datori di lavoro siano esonerati per due anni dal versamento dei contributi fino a 500 euro al mese. Lo sconto sale a 650 euro per le donne disoccupate da 24 mesi. Meloni, bonus da 100 euro alle famiglie. Un bonus che però deve essere versato a partire dal prossimo mese di gennaio 2025. Questo fa titolare anche la Repubblica che parla apertamente di beffa nel decreto primo maggio. I 100 euro arrivano appunto solo nel 2025. Ma il titolo principale è dedicato alle elezioni. Un'Europa diseguale. Secondo il rapporto del Censis sull'Unione Europea, l'impoverimento dovuto alle varie crisi premia astensionismo e populisti. Il caso Italia. Il 49% non si fida dell'Europarlamento. Michel, fermiamo la destra, non difende gli ideali comuni. E allora leggiamo il richiamo in prima pagina. Un elettore su tre dell'Unione Europea arriverà al seggio a giugno con il profondo malessere dei perdenti. Oltre 120 milioni di potenziali votanti sbalestrati dalle crisi con sfiducia verso l'Europa. Un misto di frustrazione e insoddisfazione che gonfia le vede dei partiti populisti che proliferano soprattutto a destra. Lo scrive il Censis nell'ultimo rapporto. Lo Stato dell'Unione. Geografia sociale dell'Europa al voto. Intervista a Charles Michel. Fermiamo la destra che minaccia gli ideali dell'Unione Europea. Intanto sul fronte lavoro il bonus da 100 euro arriva solo nel 2025. Poi c'è questa fotografia a centropagina. Ora decisiva per la tregua e ostaggi in Medio Oriente. Blinken. Dipende tutto da Hamas. E c'è anche il caso Depardieu. Nuove accuse di molestie. Adesso lo aspetta il processo. Parlano due donne. Ma c'è un altro titolo che riguarda la guerra in Ucraina. L'Italia dà a Kiev in segreto i missili a lungo raggio. I missili Storm Shadow sono un'arma straordinaria. Regno Unito, Francia e Italia forniscono queste armi per essere utilizzate nella guerra in Ucraina. Parole di Grant Shapps, ministro della difesa britannico, che forse involontariamente ha rivelato quanto l'Italia sinora non ha mai ammesso. E ci spostiamo sulla stampa il quotidiano di Torino che invece titola tredicesime. Il bonus è sparito. Meloni. 100 euro a gennaio per i redditi sotto i 28 mila euro. Due anni disgravi del 120 per cento per chi assume l'incontro a Palazzo Chigi. Landini, che è il leader della CGL, diserta. Si ricordano di noi solo il primo maggio. La CISL invece parla di direzione giusta. Leggiamo il richiamo. Doveva essere un decreto primo maggio in continuità con le misure varate in Consiglio dei Ministri lo scorso anno, il giorno della festa dei lavoratori, quando venne abolito il reddito di cittadinanza e tagliato il cuneo fiscale di sette punti. Invece i provvedimenti di oggi sul tavolo di Palazzo Chigi segnano un passo indietro. E c'è anche il commento il lavoro in Italia c'è ma non si sente bene, scrive Marianna Filandri. E poi c'è anche il reportage. Gli schiavi nei campi a meno di un euro l'ora. Filippo Fiorini scrive il villaggio turistico La Caravella era un luogo di relax, poi è diventato un bacino per attingervi gli schiavi. Due passi dal mare, una delle zone più belle della costa est, 80 appartamenti, due piscine e solarium, un campo da tennis e un campo di calcetto. E ancora l'inchiesta Pestaggi al Beccaria, la foto della vergogna, circondato e spinto al muro, strattonato per un braccio e poi a terra viene scalciato almeno una volta. La sequenza è immortalata, fotografata, fotogramma dopo fotogramma da una telecamera di sorveglianza dell'IPM Beccaria di Milano. Da un lato alcuni agenti della Polizia Penitenziaria finiti in carcere il 22 aprile con le accuse di torture a minorenni. Dall'altra un detenuto quindicenne. La scena cruenta dell'8 marzo l'hanno descritta in un'annotazione i colleghi della Polizia Penitenziaria degli autori del Pestaggio. E ancora qualche titolo. Il Medio Oriente, la tregua a Gaza nelle mani di Hamas, fregata italiana, batte un drone. Uti, leggiamo. Come elefanti in un negozio di cristalli, secondo uomini vicini al primo ministro Netanyahu, è così che si starebbero muovendo i querelanti che alla Corte Penale Internazionale dell'AIA avrebbero mosso le accuse al premier israeliano. Ma c'è anche un riferimento alla guerra in Ucraina tra Putin e Zelensky, negoziato impossibile, scrive Ettore Sequi. Non ci si può abituare all'idea della guerra. Chi ci ha ricordato il presidente Mattarella il 25 aprile? Il messaggio è chiaro e lo possiamo riferire anche alla guerra tra Russia e Ucraina. Nessuna guerra può durare per sempre. Oggi di pace in Ucraina si parla soprattutto in termini di principio. Si discute di operazioni sul terreno e di forniture militari, meno di soluzioni negoziali. E ci spostiamo sull'avvenire il quotidiano dei Vescovi italiani, che si occupa invece del Medio Oriente. Assist per la tregua. Occhi su Hamas dopo la proposta per il cessato del fuoco su Gaza, ancora sotto attacco. Stati uniti al lavoro su due tavoli. Una spinta dall'asse tra Israele e Arabia Saudita. Blinken ieri a Riad e oggi a Gerusalemme. Per il ministro degli esteri italiano Tajani, i negoziati sono giunti ad un punto di svolta. Leggiamo Luca Geronico. Ultime trattative per cercare di fermare le manovre militari di Israele sul RAF. Il pressing è evidente. Al Cairo, una delegazione di Hamas, apre a colloqui a lungo raggio con i mediatori egiziani. Intanto il segretario di Stato americano Blinken, giunto a Riad, avverte. Proposta estremamente generosa di Israele. Serve una decisione giusta di Hamas. E poi c'è anche il reportage tra gli studenti accampati alla Columbia University di New York, non trattatici come terroristi. Stanno protestando ovviamente per la questione medio orientale. Ma c'è anche il caso Ariston. Il governo chiede un passo indietro, ma chi resta ha paura. Il governo italiano ha iniziato a muoversi concretamente contro l'esproprio del controllo dell'attività di Ariston in Russia da parte del Cremlino. Il governo ha convocato al Ministero degli Esteri l'ambasciatore russo Alexei Paramonov per esprimergli il forte disappunto per una misura che ha colpito le legittime attività economiche di imprese straniere. Riccardo Guariglia, segretario generale del Ministero, ha esplicitamente espresso l'auspicio che la Russia possa riconsiderare il provvedimento preso, essendo esso stesso qualificato da parte russa, come temporaneo. Ma intanto tra le altre 11 realtà italiane ancora operative in Russia, tra cui aziende come Benetton e Calzedonia, cresce il timore di un trattamento analogo. E a proposito di lavoro, se ne parla anche in Italia, lavoro e sgravi, decreto pronto, il bonus tredicesime slitta a gennaio. Forlani dell'INAP più politiche attive, formazione e migranti si va verso il primo maggio. Il governo ha anticipato ieri ai sindacati le misure del decreto che approverà al Consiglio dei Ministri di oggi. Il punto forte è la decontribuzione per spingere l'occupazione dei giovani, delle donne, delle categorie svantaggiate. Confermati anche i 100 euro in più per la tredicesima di chi ha redditi sotto i 28 mila euro e figli, ma il pagamento è spostato di un mese in avanti per ragioni contabili. C'è poi la riforma dei fondi di coesione. Sul tavolo i 43 miliardi di euro per la programmazione europea 2021-2027. Misure di emergenza invece per l'ex ILVA, ma il progetto non convince i sindacati. Forlani, nuovo presidente dell'INAP, illustra l'agenda di lavoro in Italia. Anche qui il grande allarme e il declino demografico. E poi si parla anche della riforma sull'autonomia differenziata. Inizia l'esame e alla Camera è subito scontro. E ci spostiamo sul Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che ovviamente si occupa dei temi di economia fisco. Pronto il 7.30 semplificato. Si parla di dichiarazione dei redditi. La precompilata arriva alla decima edizione. Quest'anno esordisce la versione semplificata e guidata del modello di compilazione. Da oggi pomeriggio sarà possibile prendere visione della dichiarazione. Dal 20 maggio ci sarà modifica o accettazione. Si allarga il peso di queste dichiarazioni. L'obiettivo 2024 è arrivare a 4,7 milioni di fai-da-te che, ragionando sulla base dei 7.30 trasmessi l'anno scorso, potrebbero rappresentare circa un quinto del totale. E a proposito di lavoro, sette bonus in arrivo in denità di 100 euro a gennaio. Sei bonus per favorire l'assunzione di donne, giovani, l'occupazione al sud e l'autoimpiego, oltre ad un intervento per la riconversione di personale delle grandi imprese in crisi. Sono le principali misure in arrivo dal Consiglio dei Ministri sul lavoro, subordinate però al via libera dell'Unione Europea. Slitta a gennaio l'indennità da 100 euro per i redditi bassi. Si parla anche di industria. A marzo ricavi giù, in caduta anche i servizi. Ne parla il centro studi di Confindustria. E c'è anche il caso Ariston con la Russia. Tajani convoca un tavolo con le imprese. Leggiamo. Governo a lavoro sulla nazionalizzazione dell'Ariston in Russia. Tra Roma, Mosca e Bruxelles sono in corso contatti al massimo livello per capire le intenzioni della Russia. Mentre alla Farnesina è stato convocato l'ambasciatore russo per chiedere la revoca del provvedimento di trasferimento temporaneo della gestione di Ariston, Termo-Russ, ad una controllata di Gazprom, concorrente nel settore. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato per il 2 maggio un vertice alla Farnesina con Confindustria e altre associazioni. E ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il primo dei due giornali di Puglia e Basilicata, che titola il braccio di ferro. L'antimafia chiama Emiliano, lui, o altri impegni, il piano su rifiuti e l'uscita dell'assessore Maraschio dall'Aggiunta. Un vero e proprio caso politico, giudiziario, quello che impegna la Commissione Antimafia e il Presidente dell'Aggiunta regionale pugliese, Michele Emiliano. Ma c'è anche un altro fronte, quello dell'inchiesta vera e propria, con la battaglia al riesame sui domiciliari all'ex assessore regionale Pisicchio. L'ex assessore vuole tornare libero, ma IPM si preparava alle elezioni e quindi c'è il pericolo di reiterazione dei reati. L'accusatore di Sandrino, in procura per tre ore, ha ascoltato l'ex maresciallo della Guardia di Finanza, da cui partì l'inchiesta sui voti truccati. E c'è anche il caso Ilva. Presentato il piano del Governo per rilanciare Acciaierie d'Italia, il vertice a Palazzo Chigi, in arrivo altri 150 milioni di euro, ma per i sindacati si tratta di una cifra insufficiente e quindi si chiede di rimpinguare questa somma. L'edicola del Sud, l'altro giornale di Puglia e Basilicata, autonomia, barricate in aula e nelle piazze. Alla Camera, via alla discussione generale sul DDL Calderoli, esplode la rabbia nelle strade, soprattutto con la protesta del Movimento 5 Stelle. E poi ci sono due fotografie a centropagina. La prima riguarda la regione Puglia nella bufera. Emiliano, braccio di ferro sull'audizione in antimafia, indisponibile il 2 maggio. Il Presidente Emiliano chiede di spostare, dopo il 10 maggio, la convocazione, la sua audizione nella Commissione antimafia, perché il 7, 8 e 9 maggio sono previsti appuntamenti importanti in regione per discutere della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, mentre il 2 maggio c'è una convocazione da parte del Ministro delle Regioni e quindi chiede appunto di non essere convocato in quella data. Vedremo, nelle prossime ore si arriverà ad una conclusione di questa vicenda. Mentre si parla anche di calcio con De Caro, sindaco di Bari, che scuote dell'Aurentis. Retrocessione da evitare, adesso incontri la tifoseria. E ci spostiamo sull'arresto del Carlino, il giornale del gruppo quotidiano nazionale, che titola «Bonus es gravi, la manovra del lavoro, oggi in Consiglio dei Ministri misure per sostenere l'occupazione di giovani e donne, sconti fiscali e neoassunti per due anni, nella tredicesima 2025, indennità di 100 euro ai redditi fino a 28 mila euro e alle famiglie monogenitoriali. Autonomia bagarre alla Camera». E poi a centropagina vedete Depardieu arrestato e poi rilasciato dopo le accuse di molestie. Ancora «Me too». E ci spostiamo velocemente sui giornali del gruppo «La provincia». Questo è l'ECCO, che titola «Quarto ponte, si lavora ora due anni di cantiere posizionate e appescate, le trivelle per lo scavo delle fondamenta». «La provincia di Sondrio, in questo caso, era l'antico orfanotrofio, adesso aiuterà le famiglie». A Sondrio, sì, al piano da un milione e quattro alloggi per dodici persone. E ci spostiamo sulla provincia di Como. «L'albero caduto sulla regina, un metro, e sarei morto, la testimonianza del ragazzo. Oggi il vertice sul senso unico per i bus». Vicende del tutto locali, naturalmente. Poi l'ECCO di Bergamo, che invece titola «Ricette elettroniche e ticket, sistemi in tilt via le deroghe». «Oggi doveva essere l'ultimo giorno, ma online non sono mancati i problemi». E c'è anche le parole dell'ex finanziere Mimmo Scarcella, che racconta «Ho sparato, ma non ho mirato ai ladri, ho sparato verso il soffitto della Camera, nella quale erano appunto entrati i ladri». E ci spostiamo sul messaggero, il giornale di Roma, il giornale della Capitale, che titola «Bonus ai dipendenti con figli, meloni e sindacati. A gennaio, contributo di 100 euro, sotto i 28 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri anche il pacchetto di fondi per le assunzioni. Da oggi il via al nuovo 7,30. Semplificato, ce ne siamo occupati ampiamente». E allora leggiamo gli altri titoli. «Auto elettriche, flop delle colonnine. In Europa ne servono otto volte di più. Italia indietro rispetto a Germania e Francia». «In Europa non ci sono abbastanza colonnine elettriche per poter alimentare la rivoluzione delle auto green. L'Unione, infatti, avrebbe bisogno di un numero di punti di ricarica pubblici otto volte superiori al tasso di installazione dell'ultimo anno. La denuncia dei costruttori. In sette anni le vendite di veicoli sono state tre volte più veloci e per stare al ritmo di crescita del mercato entro il 2030 servirebbero 8,8 milioni di colonnine. Quanto all'Italia, siamo dietro a Olanda, Germania e Francia». E poi si parla anche dei mutui casa. Più 7% tornano le richieste prestiti in attesa del taglio dei tassi. Balzo a marzo grazie all'occupazione stabile. Ma il titolo a centropagina riguarda Gaza e quindi il Medio Oriente. Tregua vicina. 40 giorni di stop e ostaggi tutti liberi. Questa è la proposta israeliana, naturalmente. Trattativa serrata. Blinken in pressing su Hamas. Borrell intanto, anzi Borrell intanto, i paesi dell'Unione Europea vogliono lo Stato palestinese. Ma ci sono altre vicende, come quella dei professori coinvolti tende violenza già a 900 arresti nei campus americani. E poi c'è il caso Fassino finisce in procura. Profumo rubato, informativa IPM. Ci sono sei dipendenti del duty free dell'aeroporto di Fiumicino che, sentiti dalla polizia come testimoni, confermerebbero le accuse contenute nella denuncia asporta dalla società proprietaria del negozio sul tentativo del deputato del Partito Democratico, Piero Passino, di rubare un flacone di profumo. Le dichiarazioni di commessa impiegati sono inserite nella informativa defunicitata alla procura di Civitavecchia. Ci mancava anche questa. E ci spostiamo a Napoli per seguire il mattino. Bonus e sgravi. Ecco il piano. Meloni sindacati. A gennaio 100 euro ai dipendenti sotto 28 mila euro di reddito. Misure per il sud. Verso le europee, i sondaggisti, il premier e i italiani. Un valore aggiunto. Schlein. Voti al PD, non a me. E poi vedete a centropagina questa notizia davvero importante. Napoli, raid dei clan contro Don Merola. Scatta la protezione. Il doppio avvertimento all'ex parroco di Forcella. Finestrino rotto e furto dell'auto. Ma lui continua a dire niente scorta. Giuliana Covella racconta. Rafforzata la vigilanza a Don Luigi Merola, dopo il danneggiamento e poi il furto della sua auto. A darne notizia è stato lo stesso sacerdote, a margine della riunione convocata dal prefetto Michele Di Bari, che ieri ha preseduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Non voglio la scorta. Sarebbe un ritorno al passato. Voglio proseguire in serenità la mia attività, magari con una maggiore vigilanza, ha chiarito l'ex parroco di Forcella, a capo della fondazione A Voce de Creature. E ci spostiamo sul quotidiano del sud e l'altra voce dell'Italia, che titola Autonomia, fermatevi, la Lega tenta il blitz sulla riforma spacca Italia. Insulti, cartelli, rissa sfiorata, l'opposizione da battaglia e chiede a Giorgia Meloni di fermare il progetto federalista del Carroccio. L'autonomia differenziata è una riforma divisiva per la nazione. E poi il decreto primo maggio. Incentivi per giovani, donne e partite IVA. Al sud il bonus lavoro si fa in tre. Sbloccati, 1,8 miliardi per la ZES unica. Antonio Troise racconta. Arriva a Palazzo Chigi il decreto primo maggio. L'anno scorso aveva di fatto cancellato il reddito di cittadinanza. Questa volta invece contiene un pacchetto di misure destinate al sud. E ancora un altro argomento, l'ex ILVA. Missione rilancio. Ecco il piano da 8 milioni di tonnellate di acciaio. Lì a Romagno scrive. C'era il piano industriale finanziario di acciaierie d'Italia, l'ex ILVA, da presentare in tempi stretti a Bruxelles per ottenere il via libera al prestito ponte da 320 milioni di euro, indispensabile per garantire l'operatività degli impianti sul tavolo dell'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Un piano per il rilancio del gigante della siderurgia italiana tra forni elettrici e alto forni tradizionali. E poi l'ultimo titolo. Patto di stabilità, non tutti i mali vengono per nuocere. Da oggi in vigore le nuove regole. Ed era questo appunto l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati in questa rassegna stampa che torna domani, stessa ora stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.